Il Comune di Collier-Metauro ha aderito al Festival regionale Marche Storie. Assessore, quando si svolgerà l'iniziativa e a chi sarà dedicata? Allora, l'iniziativa si svolgerà nel borgo di Montemaggiore al Metauro il 15-16-17 settembre con uno spettacolo che ha il titolo Barzellette dal fronte, quindi la sai quella di un inglese, un cardaginese e un romano che ha come protagonisti due importanti personaggi storici che hanno attraversato il territorio di Montemaggiore. Il primo sarà sicuramente Winston Churchill che nell'estate del 44 si afflacciò dalle mura del paese per osservare l'avanzata dell'ottava armata e proprio dalle sue memorie ci dà anche la disfatta di Asdrubale, quindi un'altra importante battaglia del Metauro. Questo è materiale per la Rosa della Cecca che vuole indagare se tra le due battaglie ci sarà un'interconnessione o comunque qualche elemento particolare che ha sperato i due personaggi storici. Quindi l'evento è scritto e ideato dal San Costanzo Show, quindi nelle persone di Daniele Santinelli e Massimo Pagnoni con la partecipazione anche del regista del San Costanzo Show, Oscar Genovese. L'ingresso sarà libero? Sì, l'ingresso è libero a tutti gli eventi, anche agli eventi collaterali, quindi la mostra disegni in copertina e le visite guidate al Museo di Churchill. Per l'evento principale, quindi lo spettacolo del San Costanzo Show, è consigliata la prenotazione in quanto si terrà al chiuso nel teatro comunale che ha una tapienza limitata.